Insalata anizzarda alla Ligure è pronta! Per prima cosa sistemate su un piatto grande l'insalata. Io in questo caso ho scelto il radicchio. Aggiungi fagiolini e patate cotti e raffreddati. La cipolla affettata. I cetrioli. Le uova sode. I pomodorini. Filetti di acciuga. Tonno sott'olio. E olive. Alla fine condire con sale, pepe e olio. Insalata anizzarda alla Ligure è pronta! Il piatto unico dell'estate!